ciao sono appena tornata dal mio viaggio in africa che è stato un magnifico quando siamo stati in safari con noi c'era uno chef che ci preparava i piatti ogni giorno colazione pranzo cena almeno cinque portate il che vuol dire che ho assaggiato un sacco uno dei piatti che mi è piaciuto di più della loro cucina tradizionale era il pilao, il pilao tanzaniano ognuno aveva la sua ricetta personale totalmente diversa ho deciso di seguirne solo una e oggi provo proprio quella e vi porto con me andiamo questo è il pezzettino che ho scelto molto molto magro visto che loro taglieva da tutto il grasso bisogna mescolarlo io ho deciso di coprirla un po' ovviamente il picco principale qui sono le spezie io sono stata furba che ho comprato già diciamo miscela delle spezie ingredienti black pepper, cardamom, cinnamon, cumin, cloves e garlic appena finisco questa confezione me ne faccio una io e oggi invece facciamo questa faccio un po' all'occhio faccio sempre all'occhio ho un po' all'occhio una matata faccio così il sudino sopra è buonissimo Come vino da abbinare in questo momento sto bevendo un bel canonao di Sardegna, di eucalipto, pugna, un po' di amarena e sento anche le spezie, altrimenti si potrebbe andare Tungerlo che è sempre un ottimo accostamento considerando che ha tanti sentori speziati tra quali cannella e pepe nero, altrimenti Pinotage che è un vitigno di Sudafrica così andiamo diciamo sulla regione, in Continenti in questo caso che è un vino fruttato, speziato e abbastanza tannico.